Abbiamo scoperto l'Italia a rinforzare, questa è una nazionale nazionale non so molto lunga e proprio per un turno in un K.O. spielo, siamo in una halbfinale Abbiamo scoperto l'Italia a rinforzare, non dopo 19 minuti, non dopo 120 minuti e siamo tutti molto glaciuti Noi abbiamo detto, partiamo questo torneo e daremo l'anima, daremo tutti noi stessi e se usciamo è perché abbiamo dato proprio tutto, penso che oggi l'abbiamo fatto Mi dispiace perché poi potremmo vincere anche i rigori, potremmo perderla, poi potremmo rivincere stavolta la lotteria ha premiato loro, però ce la sono giocate alla pari contro i campioni del mondo una squadra molto forte, questo dimostra che questo gruppo è un gruppo vero un gruppo che ha dei principi, ha delle individualità, ha tutto Mi dispiace, però bisogna guardare avanti e essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto